Musica Telespettatori di Tele4 ben ritrovati a Triesti in diretta per una nuova puntata con i consueti due blocchi poi ci sarà studio Tele4 dalle 6 e mezza come sempre adesso invece però siamo in compagnia di Laura Tamborini coordinazione per l'USR del progetto Sicuramente buon pomeriggio grazie per essere qui con noi e poi Liliana Gobbino referente per l'educazione stradale della regione Friuli Venezia Giulia buon pomeriggio anche a lei allora il progetto Sicuramente ne parlavamo poc'anzi in fuorionda che riguarda la mobilità stradale l'educazione stradale, un progetto assieme alla regione insomma snoccioliamo un po' i fatti più importanti come siete arrivati a questo progetto, da quanto lavorate a questo progetto e insomma che cosa ci si pone come scopo Dunque questo è un progetto che risale al 2010 è stato siglato un protocollo d'intesa con la direzione dell'ufficio scolastico regionale quindi la direzione regionale del MIUR il primo fu fatto con il coinvolgimento anche diretto di Friuli Venezia Giulia Strade questo protocollo poi negli anni è stato rinnovato altre due volte quindi diciamo è un progetto che viene da lontano e che ha trovato poi il sostegno anche di diverse giunte regionali che si sono succedute io posso parlare dell'obiettivo regionale la regione ha promosso questo accordo e questo progetto poiché uno degli obiettivi principali dell'assessorato alle infrastrutture e trasporti nel quale io lavoro è quello di lavorare per la diminuzione degli incidenti e per la diminuzione delle conseguenze degli incidenti per fare questo come dice anche la legge nazionale il piano nazionale della sicurezza stradale occorre lavorare in diverse direzioni c'è la messa in sicurezza delle strade che è un po' il core business dell'assessorato ma c'è poi ci sono gli interventi volti a modificare i comportamenti cioè l'educazione stradale questo è un intervento che il piano nazionale questo tipo di interventi il piano nazionale della sicurezza stradale li definisce strategici proprio perché intervengono appunto sui comportamenti fin da piccoli dei bambini quindi in queste attività parallele e contestuali la collaborazione con la scuola non solo è essenziale è necessaria perché non c'è altro modo per raggiungere il maggior numero di ragazzi e di giovani e costruire quindi quella che noi chiamiamo una cultura della sicurezza stradale quindi una modifica dei comportamenti che insieme ad altri tipi di interventi però questa è la principale, la più importante ci potrà permettere di raggiungere un obiettivo che è l'obiettivo diciamo perché no, perché non parlarne l'obiettivo sarebbe zero incidenti, zero morti eccetera ecco per andare in questa direzione bisogna cominciare a lavorare noi lo facciamo da tempo con le giovani generazioni il futuro che d'altronde deve essere educato giustamente a una corretta utilizazione perché ricordiamo che purtroppo nella fascia di età dai 15 ai 23 anni l'incidente stradale purtroppo rimane la principale causa di morte o di invalidità permanente per i giovani quindi la scuola deve in qualche modo affiancarsi a quello che è l'educazione familiare anche in questo campo e questo è un progetto, il progetto sicuramente che è innovativo da questo punto di vista per varie motivazioni perché è un progetto innanzitutto trasversale alle varie discipline curricolari che la scuola propone nei vari ordini di scuola e quindi riesce a intrecciare materie che sono di vario tipo che possono andare dalle materie scientifiche all'educazione civica all'educazione ambientale trasversalmente appunto all'educazione stradale o meglio l'educazione alla mobilità in chiave europea quindi una mobilità che deve essere sicura ma anche sostenibile dal punto di vista ambientale e quindi educare i ragazzi fin dall'infanzia ad essere sicuri nel traffico ma anche rispettare quello che è l'ambiente è stato un progetto quindi che è partito come è stato detto ormai dieci anni fa e che proponiamo assieme alla regione come ufficio scolastico regionale anche con un'innovativa metodologia didattica che è una metodologia quella della peer education e del tutoring e qui un grosso aiuto, una grossa collaborazione ci viene dalla professoressa Loredana Cervinski-Domenis che fin dall'inizio ci affianca per quanto riguarda la parte didattica in questo progetto e siamo riusciti a veicolarla proprio con questa metodologia che è risaputo anche dal punto di vista scientifico che nell'educazione alla salute più in generale è molto efficace perché i ragazzi sono partecipi a quella che è la costruzione dell'insegnamento e che quindi veicolano loro stessi ai propri pari con il linguaggio dei ragazzi appunto quali sono i messaggi più importanti in questo campo quindi innovazione sia dal punto di vista della metodologia didattica e della trasversalità disciplinare, le varie discipline curricolari ma anche proprio perché è un progetto come è stato detto di sistema perché oltre alla regione che ha permesso proprio la nascita di questo progetto con questi accordi e convenzioni con l'ufficio scolastico regionale e quindi con le scuole della regione abbiamo molti altri soggetti enti che collaborano in questo campo con noi da anni quindi possiamo citare le varie polizie locali, l'Apostrada, l'ACI, c'era Friuli Venezia Giulia Strade ma abbiamo anche la FIAB per quanto riguarda la mobilità sostenibile quindi l'uso della bicicletta, quindi alternativi ai mezzi motore e qui ho per esempio il Trieste Trasporti, la SAF quindi abbiamo una serie di collaborazioni di sistema a livello regionale che sono fondamentali perché altrimenti le scuole facevano sia educazione stradale che comunque per il MIUR è obbligatoria nei vari ordini di scuola però gli insegnanti non sapevano come farlo e magari ogni scuola si creava il microprogettino che implementava sul suo territorio ma che noi come ufficio scolastico non riuscivamo a monitorare e valutarne l'efficacia quindi questo è un progetto che proprio si è evoluto di sistema proprio per poter monitorare e valutare abbiamo fatto anche diverse ricerche assieme all'Università di Trieste al Dipartimento di Scienze della Vita e la Scuola di Dottorato di Neuroscienze Cognitive per valutare l'efficacia dei vari interventi didattici che abbiamo fatto un progetto d'ampio raggio quindi che non è una banale educazione fisica educazione alla mobilità e basta ma richiede appunto l'intervento di vari apparati di coordinamento di tutte le varie collaborazioni abbiamo citato la Polizia Locale poi c'è di mezzo la Regione ovviamente in questo caso per questo progetto le scuole c'è stato giovedì 9 c'è stata una manifestazione al Teatro Niela sì abbiamo premiato come ogni anno a conclusione dell'ITER del concorso di idee che viene bandito appunto grazie anche ai fondi della Regione che stanziano dei fondi proprio che vanno alle scuole sappiamo che le scuole hanno molto bisogno di un aiuto anche finanziario oltre che didattico e abbiamo premiato al Teatro Niela che era pieno di ragazzi di varie scuole di tutta la Regione i migliori lavori tra tutti quelli che sono stati numerosi che sono pervenuti a una commissione di esperti che li hanno valutati e molti di questi hanno avuto proprio un impatto anche molto importante dal punto di vista comunicativo negli anni infatti diversi di questi lavori che negli anni sono stati prodotti sia dalle scuole superiori che anche dalle scuole del primo ciclo grazie sempre alla Regione sono potuti uscire dalle mura della scuola e per esempio abbiamo anche proiettato anni fa nei cinema di tutte le multisale della Regione dei filmati proprio prodotti dalle scuole e dai ragazzi in questa campagna di promozione alla salute fatta sempre con il tutoring e il peer education perché sono ragazzi che pensano a questi spot rivolti ai loro coetanei quindi molto più efficaci di uno spot magari ideato da un adulto che ha una sensibilità diversa su queste tematiche quindi i ragazzi stessi si sono adoperati in primis e questa è la logica del progetto che sono i ragazzi protagonisti che sono gli studenti protagonisti devo dire che c'è anche un valore aggiunto in questo tipo di collaborazione perché aumentare la sicurezza stradale o in qualche modo appunto come diciamo prima diminuire gli incidenti vuol dire per esempio per gli enti locali ma anche per la Regione come dire pianificare lo spazio lo spazio comune lo spazio stradale in maniera tale che appunto sia assicurata la sicurezza scusate il bisticcio di parole noi negli anni per esempio abbiamo anche finanziato in maniera consistente dei bandi rivolti ai comuni per la messa in sicurezza dei percorsi casa scuola questo perché anche grazie alla collaborazione per esempio con la parte sanitaria della Regione uno degli elementi che è stato fin da subito evidenziato è che tutte le attività che si fanno con i ragazzi e con le scuole devono trovare in qualche modo anche un'applicazione poi diretta, operativa all'esterno cioè inutile insegnare tante regole se poi in effetti i bambini poi realmente non si trovano a sperimentarle nello spazio quotidiano e questo come dire ha innescato anche una collaborazione virtuosa in termini anche di progettualità di pensiero di progettualità anche con gli enti locali mi sento di dire perché poi in effetti in tantissime situazioni nella Regione devo dire che dei comuni hanno lavorato bene in questa direzione sia lavorando appunto in termini di pianificazione urbana in questa direzione sia anche collaborando loro stessi con le scuole con i dirigenti scolastici per sponsorizzare dei progetti i bici, i bus, i pedibus eccetera che erano fatti adesso che si parla anche molto di mobilità sostenibile assolutamente tra l'altro stiamo vedendo un estratto dello spettacolo col casco no, aspetta col casco non ci casco questo gioco di parole che era al miela giusto? sì, durante la premiazione del concorso di idee infatti abbiamo anche offerto ai ragazzi ai bambini presenti questo spettacolo teatrale che è uno spettacolo portato in scena dalla compagnia Veneta Zelda che fa anche educare a teatro e quindi propone attraverso il teatro proprio delle tematiche come quelle dell'educazione stradale ai ragazzi alla popolazione scolastica che è una metodologia anche questa innovativa e molto molto efficace proprio perché diverte fa partecipare a un teatro partecipato infatti giovedì molti dei ragazzi presenti sono stati protagonisti di questo spettacolo e già a suo tempo anche un altro spettacolo che era i vulnerabili rivolte ai ragazzi un po' più grandi è stato portato in giro nelle vari teatri della regione rivolto alle scuole di vari ordini adesso invece abbiamo appena visto una sorta di spot per la guida quando uno si mette alla guida sotto effetto o portandosi dei beveraggi alcolici dentro la macchina abbiamo visto appunto c'era la scena dell'angelo custode che aspettava fuori dalla macchina e poi e del diavolo e del diavolo il ragazzo che poi è stato buttato fuori dalla macchina questi vogliono essere comunque i messaggi comunque fatti per sensibilizzare anche alle tenavani quindi i ragazzi stessi che si sono anche fatti un po' attori attori e registi di tutti gli spot addirittura anche alcuni hanno fatto la colonna sonora di alcuni video quindi sono stati i protagonisti a 360 gradi di questi messaggi e di questa campagna appunto promozionale sulla sicurezza stradale ecco bambini anche in bicicletta in questo caso spot fatti da ragazzi tutti giovani ma più o meno delle fasce di età abbastanza eterogenee che vanno dai più piccini fino ai ragazzi alle scuole superiori e come hanno risposto tutti questi ragazzi hanno risposto tutti molto bene mi pare che il feedback sia ottimo della partecipazione resa sui numeri puoi dire qualcosa? sì sui numeri in questi anni diciamo i numeri sono stati veramente molto grandi perché come è stato detto noi ci rivolgiamo a tutte le scuole della regione di ogni ordine grado quindi partiamo dall'infanzia dalle scuole dell'infanzia fino ad arrivare alle scuole superiori sia scuole private che scuole pubbliche sia paritarie che scuole statali sì e quindi ci sono state anche diverse scuole per esempio comunali dell'infanzia di Trieste che hanno partecipato anche paritarie nel resto della regione diciamo che tutte e quattro le province sono state protagoniste in questi anni sia del concorso sia della formazione perché anche tanta formazione per docenti è stata organizzata infatti ricordiamo che tanto più con la nuova legge la legge 92 dello scorso agosto dove è stata reintrodotta l'educazione civica come materie obbligatorie che il prossimo anno scolastico sarà a tutti gli effetti reso obbligatoria con un'ora a settimana nei vari ordini di scuola e nelle linee guida dell'educazione civica è stata introdotta anche di nuovo l'educazione stradale quindi tanto più questa materia viene istituzionalizzata nel curriculum formativo scolastico però chiaramente anche qui anche se queste leggi normano l'obbligatorietà dell'educazione alla mobilità o dell'educazione stradale diciamo che i docenti si trovano un po' spiazzati proprio perché non esiste una vera e propria formazione oppure il docente di educazione stradale o l'ora dedicata di educazione stradale e quindi in questo senso il progetto sicuramente viene così in aiuto a dare un supporto formativo anche ai docenti e alle scuole che con la formazione anche di altri ci danno una mano nella formazione anche questi altri enti che collaborano con noi quindi dalle polizie locali alla postrada all'ACI che in qualche modo noi definiamo facilitatori tecnici perché comunque protagonisti nel loro campo e tecnicamente preparati in questo settore ad affiancare i docenti poi nei vari progetti che loro portano avanti nelle classi quindi sempre utilizzando anche come dicevo la metodologia didattica della peer education dove i ragazzini più grandi magari i ragazzi delle superiori oppure i ragazzi delle scuole medie veicolano i ragazzini più piccoli delle scuole primarie o delle scuole dell'infanzia quindi diciamo tutti gli ordini di scuola vengono coinvolti anche a caduta all'interno magari dello stesso istituto comprensivo per coinvolgere quindi come protagonisti ma anche poi come attori di questi percorsi i ragazzini più piccoli quindi c'è diciamo questo coinvolgimento anche trasversale sì vorrei aggiungere su questo una cosa importante che lei vede qua c'è questo volume dentro c'è il dvd con tutte le imparare a vivere le esperienze sì tutte le esperienze che sono state documentate no i progetti ecco i progetti che sono stati portati avanti tramite la peer education quindi ci sono i video dei lavori che sono stati fatti che poi sono di diverso tipo immaginate c'è chi ha composto delle musiche delle canzoni c'è chi ha fatto teatro c'è chi ha come dire nei campi scuola hanno scenato delle situazioni prodotto dei giochi da tavola prodotto giochi da tavola per i più piccoli e appunto anche gli spot di cui parlavamo prima questa documentazione è una documentazione che ha un valore direi didattico e scientifico cioè sono è uno strumento che viene messo a questo punto a disposizione poi di tutti i docenti delle scuole della regione perché è uno strumento diciamo sono come dire sono esperienze che sono state monitorate e anche validate cioè che hanno dato come dire dei risultati in termini di attenzione di produzione eccetera e possono essere utilizzati sono una specie di auto da fe diciamo che la comunità regionale in termini di scuole eccetera si dà ed è anche questo il valore qui parlo anche dell'obiettivo regionale un valore è questo cioè contribuire in qualche modo a una crescita ma anche a come dire a definire degli strumenti che sono validi e che possono essere messi in comune perché spesso anche lavorando con le scuole ci siamo resi conto che esiste un po' l'aspetto purtroppo che alcune cose sono lasciate un po' alla volontà del singolo alla passione alla buona volontà diciamo che anche in questo caso ci sono degli strumenti già come dire testati che possono essere efficacemente utilizzati questa è una cosa importante presi come riferimento questa raccolta di buone pratiche che abbiamo sia distribuito appunto in cartaceo alle scuole anche tradotto in lingua slovena per le scuole in lingua slovena ma che si possono anche scaricare dal sito del progetto che è www.sicuramente.school nella quale c'è anche questo libro ma anche tutti gli elaborati video dei precedenti concorsi che sono scaricabili anche in forma di ebook per quanto riguarda questo libro e poi anche sempre per parlare con il linguaggio dei giovani abbiamo realizzato in collaborazione con l'università di Trieste un'app che è scaricabile gratuitamente sia da google store che da app store che i ragazzi possono implementare sul loro cellulare o sul loro tablet per mettere alla prova con dei test attentivi e percettivi per mettere alla prova le proprie capacità di reazione i tempi di reazione la velocità di reazione e che sia prima di guidare un'automobile ma anche prima di mettersi alla guida di un ciclomotore testare le loro reazioni non solo diciamo se nei casi in cui e capire anche quanto aumenti il tempo di reazione diminuisca la velocità di reazione se si assumono sostanze alcoliche ma anche solamente per la stanchezza nel corso della giornata e quindi capire quando si è più riposati quanti sono le nostre capacità e quanto è invece attenuata la nostra risposta se siamo stanchi quindi basti pensare al sabato sera dopo una serata in discoteca anche senza assumere nessun tipo di sostanza quanto cagli questo tipo di reazione e attenzione e tutti lo sappiamo però vedere proprio oggettivamente mettere alla prova le nostre capacità con i risultati è molto importante perché tanti ragazzi appunto si sono resi conto solo così quanto influenzi quindi questa proprio nelle nostre capacità e quanto alcuni secondi che sembrano pochissimo alla guida vadano a evitare un incidente o meno e quindi quanto importante sia proprio essere completamente lucidi e riposati quando ci si mette la guida di un qualunque autoveicolo o di qualunque veicolo a motore insomma o di una bicicletta anche ovviamente questo progetto è destinato a continuare negli anni per il momento allora intanto c'è l'ultimo protocollo che quindi abbiamo ancora tre anni ulteriori tre anni è chiaro che la volontà poi è quello anche di affinare gli strumenti per esempio quest'anno è stato già detto c'è una declinazione ulteriore se vogliamo che è quella relativa alla mobilità sostenibile quindi in qualche modo alla consapevolezza di come dire di dover rispettare l'ambiente e quindi anche di muoversi laddove è possibile in bicicletta per fare gli spostamenti brevi quindi in qualche modo incentivare anche sensibilizzare alla come dire alla necessità di contribuire in qualche modo a migliorare l'ambiente eccetera facendo contemporaneamente delle cose molto utili perché la bicicletta significa mobilità attiva significa recuperare gli spazi urbani estraurbani quindi come dire sottrarre come dire sottrarre spazio pregiato alle automobili eccetera che ancora oggi vengono utilizzate per una gran quantità per spostamenti sotto i 6 chilometri quando si è e quindi sono spostamenti che in molte circostanze facilmente potrebbero essere trasferite su bicicletta quindi c'è un compito ovviamente di rendere questo possibile cioè di rendere sicuri questi spostamenti in bicicletta da un lato che è un compito delle pubbliche amministrazioni di pianificare in questo senso d'altro canto bisogna anche sensibilizzare le nuove generazioni che in qualche modo anche che siano loro a richiedere poi questo perché è in questo rapporto virtuoso da un problema da un problema da un'azione culturale di base che se si riesce a far passare è chiaro che tutto prende piede più facilmente sì ma anche è importante ancora questo volevo sottolineare che i ragazzi i bambini ma anche i ragazzi poi rispettino le regole che sono poi quelle del codice della strada non in modo passivo e rassegnato ma perché consapevolizzino l'utilità di farlo e proprio per questo noi abbiamo voluto veicolare l'educazione stradale l'educazione alla mobilità anche sostenibile attraverso discipline come per esempio la fisica cercando di spiegare il perché bisogna tenere alcuni comportamenti alla guida proprio perché superare una certa velocità oppure non so frenare in curva sul bagnato può portare a determinate conseguenze e quindi studiando anche la cinematic la dinamica di alcuni fenomeni nel traffico ci rendiamo conto del perché dobbiamo tenere alcuni comportamenti che sono poi prescritti dalle leggi e dal codice della strada e anche attraverso quella che è una branca della psicologia applicata che è la psicologia del traffico abbiamo cercato proprio di studiare i comportamenti dei diversi protagonisti del traffico che non sono solo il guidatore di un autoveicolo ma il pedone il ragazzo il bambino trasportato da un altro guidatore oppure il fuitore di mezzi pubblici o il ciclista appunto il ciclomotorista fino ad arrivare poi al guidatore e al new driver così li chiamiamo i ragazzi neopatentati che sono la fascia più a rischio per incidentalità stradale di tutti i guidatori e soprattutto hanno un rischio quattro volte maggiore dei guidatori esperti di incorrere in un incidente stradale proprio per mancanza chiaramente di di esperienza ma anche perché i giovani sappiamo gli adolescenti ricercano il rischio di più e anche perché hanno proprio anche uno sviluppo cognitivo diverso che porta fino a 24 anni questi sono degli studi molto recenti ad non avere completamente sviluppata la corteccia prefrontale e quindi cercare di concentrare i ragazzi tendono a concentrare lo sguardo proprio al centro della visuale senza badare ponendo minore attenzione ai latti e quindi questo può comportare proprio anche un diverso approccio nel caso di un ostacolo improvviso c'è la vista periferica non esiste fino a una certa età esiste ma però non è così accentuata come quella di un guidatore esperto e quindi questo con tutti i vari fattori di rischio aumenta ancora di più quella che è poi il rischio dei new driver sulla strada è certo è un progetto difficile lo giudico ambizioso perché già viviamo in una società dove ci dicono che siamo sempre di fretta che devi usare le comodità devi farti arrivare le cose a casa devi guidare la macchina e poi invece da un lato fermiamoci prendiamo il monopattino e la bicicletta e non è facile effettivamente però è proprio per questo la bontà e la grandezza del progetto e anche l'ambiziosità deve essere deve essere tanta anzi direi che ci vuole anche un corso per i genitori di questi ragazzi perché se poi il ragazzo impara qualcosa e mamma e papà al volante quando lo portano in giro fanno invece quello che vogliono è chiaro che il bambino il bambino dice come se no l'adulto tante volte non è un buon maestro proprio perché certi atteggiamenti tenuti al volante da alcuni genitori o nonni chiaramente non sono un buon insegnamento e tante volte abbiamo riscontrato che sono proprio i ragazzi o i bambini che correggono l'adulto nell'atteggiamento scorretto e anche proprio a bacchettarlo a seguire che non venga reiterato alcuni ragazzi proprio si sono o bambini anche di piccoli della scuola primaria che sottolinano questi comportamenti scorretti quindi diciamo che su tutta la società dalla scuola dalla scuola dell'infanzia fino ai nonni vanno educati chiaramente noi lavoriamo sulla fascia scolare che è quella sicuramente che dà maggiore che può assorbire maggiormente anche più efficace e quindi sarà quella che darà risultati che poi lei è ingegnere quindi come è stato vedere i ragazzi all'opera nello studiare questa è una bella domanda perché ci occupavamo di strade asfalti raggi di curvatura o comunque pianificazione eccetera invece diciamo il lavoro sulla sicurezza stradale in qualche modo ha appunto grazie alla trasversalità e al fatto che si lavora sulla carneviva in qualche modo per esempio nel caso dell'educazione stradale ha ampliato molti orizzonti ha aggiunto molto devo dire che ci ha insegnato molto a me personalmente a chi ha lavorato con me in qualche modo sicuramente è un arricchimento ma proprio professionale oltre che umano naturalmente ma proprio professionale e diciamo bisognerebbe lavorare di più così aggiungo una cosa che ci tengo molto perché lei ha parlato di progetto ambizioso ed è vero è corretto io sono molto anche ottimista su certe cose perché è vero che i numeri degli incidenti comunque sono sempre importanti però mi piace ricordare quando facevo l'università io molti anni fa comunque insomma negli anni 80 i numeri degli incidenti sulle strade in Italia erano superiori 10.000 incidenti l'anno ma si facevano e morti scusi parlo dei morti adesso sono poco più di 4.000 che sono tantissimi però è stata come dire è stata introiettata questa cosa mentre all'epoca erano così come un tributo dovuto al progresso adesso questa cosa fa scandalo i numeri fanno scandalo mentre una volta non era così cioè c'è sempre un passaggio noi stessi posso dire io ho una certa età che quando ho preso la patente a parte la cintura di sicurezza parlo anche della consapevolezza per esempio che non bisogna bere neanche un bicchiere che bisogna essere sobri era una diciamo il senso comune lo escludeva non se ne parlava oggi un ragazzo di 18 anni un ragazzo che prende la patente si comporta liberamente ma sa benissimo qual è la consapevolezza cioè in realtà oggi certi comportamenti non è una fatalità infatti capita di sentire i 18 anni che hanno il guidatore come si dice candidato dedicato esatto è quello che non beve quando vanno in discoteca eccetera quindi ci sono delle cose dei risultati che si ottengono comunque c'è stata una crescita negli anni di consapevolezza perché ci è contribuito molto a farlo poi uno può comunque commettergli errori ma sa benissimo che magari che può andare incontro a gravi risultati che poi chiaramente possono coinvolgere anche altre persone quindi questo è il discorso proprio dei passeggeri e di chi guida e comunque è quello che dicevate voi di stare attenti alla guida degli altri non solo alla propria in primis ovviamente molto bene beh allora la mezz'ora è volata io vi ringrazio per avermi spiegato questo progetto che comunque durerà ancora tre anni la convenzione abbiamo appena rinnovato il protocollo quindi continuerete a collaborare e ci sarà ogni anno presenterete di nuovo immagino questo progetto c'è anche un altro assessorato l'assessorato all'istruzione oltre che l'assessorato al territorio e le infrastrutture quindi ci siamo arricchiti via via negli anni sicuramente in più abbiamo anche pensato questa volta di rendere ancora più partecipi i ragazzi protagonisti e di veicolare proprio al consiglio regionale una sorta assieme anche all'UNICEF lo faremo di consiglio regionale dei ragazzi e delle ragazze le loro proposte per migliorare dal punto di vista della sicurezza ma anche della vivibilità del loro territorio quindi vogliamo proprio che siano i ragazzi stessi essere portatori presso l'ente regione delle loro istanze è anche questo sempre più ambizioso ma ci poniamo degli obiettivi sempre più alti per migliorare è giusto questi obiettivi sempre più alti assolutamente grazie a Laura Tamborini e a Iliana Gobbino per essere state con noi per averci spiegato questo progetto adesso piccola pausa pubblicitaria poi di nuovo assieme a Trieste in diretta con Ginnastica Triestina a fra poco e rieccoci in diretta come annunciato poc'anzi insieme a Ginnastica Triestina insieme a due tecnici struttori di Ginnastica Triestina sono con Fabio Mezzetti e Giulia Stacul buongiorno 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 grazie per essere qui con noi allora poi abbiamo anche preparato due o tre video dove vedremo un pochino delle evoluzioni che mi sono visto io prima in studio Ginnastica Triestina parliamo di Ginnastica in questo caso mi aiutate voi con i termini che io non sono tecnico Ginnastica propriamente detta Ginnastica artistica voi istruite ragazzi che vanno da un'età molto eterogene insomma dai più piccini a quelli più abbiamo i bambini già dai 18 mesi avete i bambini già dai 18 mesi fino agli adulti poi com'è allenare bambini di questa di questa età beh diciamo che dai 18 mesi ai 3 anni i bambini fanno attività assieme ai loro genitori mentre poi dai 3 anni in su fanno da soli con noi insegnanti è un'attività ludica ovviamente per i bambini però è utile già da piccolissimi che poi magari hanno la voglia di continuare assolutamente quello è l'obiettivo a riuscire avete affrontato delle competizioni recentemente avete avuto delle esibizioni state preparando delle nuove dei nuovi progetti allora per quanto riguarda il settore maschile abbiamo fatto recentemente un'esibizione in occasione del trofeo Alpe Adria di Tuffi siamo stati invitati dall'Unione Sportiva Triestina Nuoto quindi abbiamo preso parte a quella cermonia di apertura facendo delle esibizioni con l'air track quindi molto acrobatiche esibizioni un po' con eserciti di forza proprio per far vedere quelle che sono le caratteristiche della ginastica artistica maschile in questo caso per quanto riguarda le competizioni invece della ginastica a brevissimo quindi il 9 di febbraio iniziamo il calendario 2020 con le competizioni regionali che porteranno poi nei mesi successivi ad arrivare ai campionati italiani ecco Ginnastica Triestina proprio la struttura di istituzione famosa perché raccoglie tantissimi sport tantissime discipline discipline che poi vedono i ragazzi che iniziano per gioco poi proseguire una vera e propria carriera anche sono tanti in percentuali quelli che veramente poi riescono anche a farsi non dico a farsi un nome per forza però comunque a portare avanti una passione iniziando veramente da piccolissimi beh sì alla fine la base di bambini piccoli sono i bambini sono molti piccoli però continuano poi ne abbiamo tante ragazzine tante ragazzine che continuano sia a livello base che poi a livello invece agonistico insomma quindi sia nella maschile che nella femminile abbiamo un settore agonistico e l'importante anche per la ginnastica è che ti dà una base quindi anche vari agonisti di altre discipline di altri sport presenti alla ginnastica Triestina magari hanno iniziato con i corsi di ginnastica artistica per poi eventualmente proseguire in altri anche la stessa Veronica Tognolo attuale campionessa del mondo da piccola faceva ginnastica con me ah ma dai beh insomma quindi vuol dire che già dentro la ginnastica Triestina c'è chi inizia con uno sport e poi magari se ne va a esplorare altri orizzonti assolutamente sì la ginnastica è una polisportiva e quindi chiaramente ci sono oltre la ginnastica artistica tutta una serie di discipline e quindi uno può scegliere chiaramente lo sport più adatto a se stesso può provare una magari l'anno dopo provare un altro e quindi l'offerta è effettivamente a 360 gradi sia per l'età per i piccoli sia anche per quanto riguarda poi i più grandi perché ci sono poi i corsi adulti i corsi della terza età i corsi per i cardiopatici quindi si parte dai 18 numeri e si arriva oltre agli anta ok quindi insomma un bel range dove esattamente ma poi l'agonismo più o meno da che età parte per maschi e femmine cioè come funziona si inizia per gioco ma poi quando si vuole far gare da che età si può iniziare a competere seriamente le competizioni iniziano a 8 anni proprio questo a livello federale è deciso così e ovviamente chi fa agli anismo viene scelto per portare avanti questo tipo di lavoro già a 5-6 anni un po' prima ecco quindi insomma perché si preparano fin da piccolini poi si va oltre e c'è chi riesce chi sceglie di restare ben oltre la maggiorità assolutamente sì ci sono ragazzi che hanno diciamo più di 20 anni che continuano ancora a gareggiare e a essere presenti quotidianamente in palestra chiaramente poi gli impegni della vita fanno sì che uno poi decidi di smettere o venire magari meno di frequenti in palestra però la federazione ginnastica proprio prevede dei percorsi per tutti quindi uno può anche fare 2-3 allenamenti a settimana e provare a fare dei percorsi che lo portano a fare i campioni italiani chiaramente in dei settori più semplici quindi con delle richieste da un punto di vista tecnico più facili infatti c'è stato anche una sorta di mi ricordo tipo una specie di promozione anche in quest'estate si è lavorato molto per le iscrizioni perché poi ogni anno da settembre partono le nuove iscrizioni e c'è stata una buona risposta da parte dell'esterno nel senso ginnastica tristina che è un'istituzione adesso non mi ricordo esattamente la data in quale è stata fondata 1863 1863 c'è comunque continua a esserci un interesse costante perché parliamo di una struttura che raccoglie molto Trieste molto conosciuta e quindi continua a dare buone risposte ma assolutamente sì noi quest'anno abbiamo dei numeri veramente notevoli da un punto di vista degli iscritti noi come ginnastica artistica abbiamo la ginnastica femminile che ha sui 200 Giulia 200 sì 200 tra bambini piccoli che in realtà sono misti maschi e femmine e poi tutta la femminile abbiamo 200 iscritti sono tanti poi i corsi di base della maschile sono anche lì intorno a settantina 25 agonisti 70 adulti poi ci sono i corsi di baby gym abbiamo da quest'anno anche corsi diciamo di trampolino e parkour abbiamo ripreso l'attività quest'anno con dei corsi nuovi di trampolino e parkour abbiamo riaperto da poco anche la sala fitness quindi abbiamo un istruttore bravissimo Sirio che in questi giorni sta riaprendo la sala fitness e quindi c'è veramente un'attività a 360 gradi per chiunque per tutte le possibilità e quindi sta un po' diciamo venire lì e provare poi l'attività più ma parkour è nuovo quindi parkour c'era già da qualche anno nella società da quest'anno c'è un nuovo allenatore qui nella ginastia tristina che sta ripartendo con un corso proprio specifico ecco perché io nel mio immaginario il parkour quando ti vai a vedere anche i video su internet sono questi percorsi fatti in strada in ambienti urbani tendenzialmente di acrobazia eccetera quindi voi in palestra organizzate un asserto di circuito praticamente è un'attività che era già iniziata ripeto da qualche anno e adesso verrà portata avanti da questo nuovo istruttore e vengono praticamente svolte nella palestra le diciamo i movimenti le mosse come le chiamano loro che vengono fatte poi nel al di fuori nel circuito cittadino dove loro improvvisano un percorso e questo chiaramente è da un punto di vista della sicurezza una grandissima un grandissimo contaggio ecco i materassi le cadute sì ovvio certo che poi non mi scampi fuori però che mi vanno a fare i percorsi in mezzo alla Cia di Trieste no però è bellissimo perché è una di quelle discipline venute fuori negli ultimi anni viste all'inizio erano viste addirittura come pericolose perché la gente o non le sapeva fare perché non c'era un'istruttura che gli stava o comunque i ragazzi la facevano così anche un po' per dimostrare qualcosa invece c'è una tecnica specifica che attira molti adolescenti che tante volte mollano uno sport quando arrivano all'età delle superiori tanti ragazzi abbandonano lo sport che hanno fatto per tanti anni e invece questo il parkour essendo uno sport nuovo di strada può attirare ragazzi che magari si stufano di una cosa che hanno fatto per tanti anni di quello che è classico esatto dello sport classico e che magari chi ha fatto ginnastica anche propedeutico lo svolgere parkour perché la ginnastica è la base per sapersi muovere correttamente e svolgere magari se adesso facciamo anche andare qualche video mentre noi parliamo così vediamo anche qualche mossa qualche evoluzione però la ginnastica effettivamente per arrivare a fare poi in parkour certi movimenti devi prima imparare a farne anche altri quindi insomma ecco questo è Diego Napolitano questi sono i due salti che l'anno scorso a Porto San Giorgio nelle finali dei campionati italiani di categoria gold gli hanno fatto conquistare un ottimo quarto posto nella categoria junior e come si diceva la ginnastica artistica è fondamentale è proprio una preparazione per tantissime discipline sportive in quanto è un'attività dove tutti gli schemi motori di base vengono assolutamente provati allenati e non solo oltre a tutti questi schemi motori di base c'è anche una caratteristica che è l'equilibrio dinamico in volo l'equilibrio dinamico in volo che si ottiene grazie ad esercizi con il corpo libero al volteggio al mini trampolino e al trampolino elastico che danno praticamente una marcia in più a differenza di altri sport perché permettono ai ragazzi di provare cosa significa stare in una fase di volo quindi una fase aerea avere unicamente la vista e gli allenamenti precedenti per capire come riuscire a preparare un atterraggio e questo è una cosa allora rischi di farti male se non siete cioè atterrare in un certo modo visto come atterrano dopo aver svolto quelle evoluzioni sulle ginocchia deve essere esatto però è chiaro che le strutture che noi abbiamo a disposizione in palestra sia la buca paracadute che una buca praticamente dove all'interno ci sono dei cubi di gomma piuma che attutiscono e permettono di provare evoluzioni anche complicate con più rotazioni sia intorno a se trasversale che sull'asse longitudinale quindi gli avvitamenti proprio in assoluta sicurezza li vediamo proprio adesso è una cosa simile che abbiamo anche noi in palestra questa dove i ragazzini atterrano in assoluta sicurezza e tranquillità ovviamente istruiti dagli allenatori perché anche per questo è importante fare delle preparazioni specifiche e non andare oltre quelle che sono le reali capacità del soggetto ecco queste triple giravolte che ho appena visto le chiamo così molto piccoli tra l'altro quelle sono bambine delle elementari ragazzini elementari e quel video è stato fatto a Cisenatico all'Accademia Acrobatica dove portiamo le bambine a fare uno stage quasi ogni estate perché è una situazione una ci sono varie palestre molto attrezzate appunto con trampolini e buche paracadute che magari non tutti hanno nelle palestre a casa propria poi vedevo anche prima i bambini invece molto molto piccoli camminare sopra come si chiama la trave sopra la trave ecco esercizi di equilibrio che poi i bambini avendo le articolazioni magari anche molto mobili a una certa età li vedi anche andare molto spavaldi con molta sicurezza io a salire su una trave e a provare a camminare equilibrio sto abbastanza mi verrebbe da stare molto attento forse sarei molto rigido invece i bambini li ho visti proprio muoversi con serenità molto utile per i bambini piccoli il lavoro sull'equilibrio sulla coordinazione il salto quindi l'utilizzo degli attrezzi della ginnastica artistica per fare un lavoro di base sugli schemi motori fondamentali ecco l'ho capito per esempio la trave è come quando si va in montagna se c'è un ruscello a traversare con un tronco appoggiato sopra il gioco è molto simile se un abituato a camminare su 10 centimetri che è la larghezza della trave e non cadere in palestra è una passeggiata è come un'autostrada andare in montagna e andare oltre il torrente il fiume e quindi è una cosa che secondo me trova riscontro in tante situazioni nella vita di tutti i giorni l'arrampicarsi sulle parallele sulle spalliere comunque fin da piccoli è una cosa che poi possono ritrovare anche quando si arrampicano in Val Rosandra o cose del genere c'è il tuo propedeutico ad esercizi sportivi tipici magari che si vedono fare così come con i piccoli usiamo anche tante volte la palla o altri attrezzi i cerchi dei nastrini per aiutarli ad imparare meglio anche a livello manuale quindi la coordinazione con il manuale anche il in modo che possano poi essere facilitati anche se non vorranno continuare con la ginnastica ma con uno sport in cui dovranno utilizzare la palla o altri attrezzi che sviluppi anche tipo elasticità una sorta di controllo del proprio corpo il sapersi muovere anche correttamente perché metti in moto tanti muscoli del tuo corpo contemporaneamente assolutamente basti pensare che una verticale in una posizione dove l'equilibrio è tenuto in appoggio sulle mani la verticale è corretta è quella che prevede l'allineamento di tutti i segmenti corporei si sta veramente tanto tempo per impararla in maniera corretta e senza errori quindi diciamo oltre a una competenza tecnica occorre anche avere una competenza di conoscere tutti i muscoli e contrarli in maniera corretta quindi assolutamente ci sono dei prerequisiti come la forza nelle braccia e nelle spalle che ovviamente uno deve avere prima di poter imparare la verticale e l'addominale gli addominali nella ginastica artistica sono fondamentali io dico sempre scherzando agli adulti della sera che se c'è una cosa che non si usa in ginastica artistica è il lobo dell'orecchio tutti gli altri muscoli dobbiamo conoscerli e usarli perché in qualsiasi attrezzo o in sospensione agli anelli alla sbarra o in appoggio a calanile parallele o al corpo libero usando la correa rincorsa e il rimbalzo sulla pedana prima o poi qualsiasi muscolo viene usato per cui è importante averli e saperli usare a che è tassica la fisicamente nel svolgere questo tipo di esercizi che sono molto dinamici cioè in palestra ci puoi andare fino a 80 anni questi esercizi li puoi svolgere se hai una padronanza totale del tuo corpo no? questa è una bellissima domanda perché anni fa si diceva che la ginastica si può iniziare solo da piccoli e non è vero e che a 18 anni si è finiti e non è vero lo stanno dimostrando proprio i campioni che le olimpiadi vincono medaglie a 30 e passa anni quindi sia nella maschile che nella femminile quindi in realtà è chiaro che l'età migliore per le ragazzine è dai 13 ai 18 e per i maschi è dai 15 ai 16 in poi perché durante il conto degli sviluppi è una questione anche di mantenere un metabolismo veloce fino a una certa età però le metodologie di allenamento le conoscenze nuove e le competenze degli allenatori hanno alzato notevolmente proprio l'asticella dal punto di vista di età e questo ovviamente fa sì che non esista una regola per dire a 30 anni si è finiti perché ripeto c'è gente che ha vinto medaglie olimpiche ben oltre esattamente quindi la ginastica anche qui si può iniziare in età più avanzata assolutamente sì perché non è più vero come una volta che chi non inizia a tre anni non può più fare chiaramente bisogna scegliere il percorso adatto nella ginastica italiana hanno scelto di fare percorsi gold e percorsi silver quindi hanno delle richieste tecniche diverse ma che consentono a ciascun atleta una volta che inizia di poter fare il proprio percorso fino ad arrivare ai campionati italiani fino ai campionati italiani e quando voi vi mettete a preparare un vostro allievo per una gara per una competizione ci sono tanti tipi di competizioni nella ginastica artistica che immagino quindi non ve ne chiederò uno specifico anche perché non li conosco tutti ma quanto tempo ci vuole più o meno per prepararsi agonisticamente a una gara c'è un lavoro fatto cioè è lo stesso lavoro di sempre che si fa ogni giorno e conseguentemente dopo vai a fare una gara o il mese prima della gara c'è qualcosa in più viene fatto quel qualcosina oltre che ti permette di arrivare con testa e fisico in maniera differente io posso dire che il lavoro che si fa durante l'anno è comunque fondamentale per la gara nel senso che in gara si portano elementi su cui si è lavorato per svariati mesi se non anche per più anni prima della gara però bisogna mettere assieme questi elementi nel senso che in gara le ragazzine e anche i maschi devono fare delle sequenze di elementi nella femminile anche con una coreografia anche con la musica e quindi bisogna preparare gli esercizi che poi portano in gara che avranno all'interno degli elementi già acquisiti nei mesi precedenti e negli ultimi due mesi si preparano si mettono assieme collegandoli un lavoro un lavoro mirato tutto l'anno poi quando si avvicina la gara insomma il calendario poi certe volte prevede delle gare in diversi mesi quindi bisogna essere molto bravi anche nella programmazione e quindi un tecnico deve riuscire anche a far arrivare il ginnasta in forma nel periodo giusto con i movimenti che ovviamente puoi presentare in gara fatti nella maniera corretta dal punto di vista tecnico e non è facile perché purtroppo l'infortunio può capitare anche giocando a scuola o scivolando per strada e quindi è chiaro che bisogna sempre tener conto delle circostanze fortuite che ti impediscono di seguire poi il programma che ti hai prefissato in maniera specifica dettagliata quindi noi siamo sempre bravi ad adattare la preparazione in funzione anche di eventuali eventi traumatici che per fortuna non avvengono spessissimo mi conciliano i ragazzi la scuola con la preparazione atletica quando lo fai però a 360 gradi cioè quando sei un atleta agonista serio proprio che fai ti prepari per questo insomma com'è la situazione riescono a beh per quanto riguarda la femminile noi abbiamo magari vi chiamano non posso venire a fare l'allenamento perché ho l'esame domani per dire banalizzo però beh può capitare nel senso per quanto riguarda la femminile noi facciamo gare di livello silver soltanto e quindi può capitare che la bambina non venga però in generale sanno anche loro e riusciamo a a far a far capire loro che più si allenano meglio faranno sia a livello di soddisfazione personale di riuscita di elementi sia a livello di risultato di una competizione e sicuramente la scuola è importante noi istruttori vogliamo che che i nostri allievi siano anche bravi a scuola preparati insomma che non si immagina quando scrivono un ragazzo pensano anche poi voglio dire non è che assolutamente si poi hanno una grossa sfortuna che io sono un insegnante di educazione fisica e quindi oltre che essere anche istruttore in palestra sono anche un insegnante a scuola io sono laureata scienze motorie anch'io si insegna però i bambini a scuola insegno all'asilo quindi io da diversi anni insegno in una scuola elementare che è il sacro cuore dove mi trovo benissimo insegno poi al Cioffs e il master che sono due scuole di corso di formazione professionale e quindi è chiaro che per noi la prima missione è quella che i ragazzi prima di diventare atleti devono diventare uomini le persone e quindi avere il percorso scolastico fatto in maniera corretta positiva perché lo sport per quanto importante possa essere viene dopo ad altri valori la parte educativa è assolutamente fondamentale per noi anche a livello sociale a livello di creare gruppo tra i bambini quindi non è solo insegnare degli elementi dal punto di vista appunto tecnico e fisico ma il bambino con noi sta per un'ora tre ore al giorno e noi siamo in quel momento istruttori ma anche educatori per l'ora è un lavoro educativo e sportivo a 360 gradi alla fine ma come deve essere in tutto lo sport poi correggetemi se sbaglio poi una cosa che mi piace in ginnastica tristina è che tanti sport quindi anche tanti contatti tra sportivi che magari non fanno la stessa disciplina quindi non è che voi lì si viaggia a compartimenti stagni che non ci si vede tra chi pratica una disciplina piuttosto che un'altra c'è anche uno scambio c'è gente che ha voglia di provare anche altre discipline una volta che è già lì dentro c'è un continuo c'è una rete insomma che unisce tutto questo sì anche se chiaramente parlo per esempio per i ginnasti allenandosi tre ore al giorno i ginnasti hanno quelle tre ore da stare in palestra quindi è chiaro che poi appena finisci scappi però diciamo che si conoscono e soprattutto quello mi fa piacere che sono anche contenti dei risultati dei loro compagni di società e più di qualche volta si parlava per esempio di recenti risultati della Tognolo e i ragazzi dicono mai hai sentito che ha vinto faccio sì sì e quindi c'è questa sorta di piacere quando anche altri ragazzi di altre attività della società fanno risultati e questo per fortuna devo dire la verità accade quindi c'è e poi tutti i ragazzi mentre fanno prima anzi o per propedeuticità per propedeuticità alla disciplina della ginnastica artistica hanno anche una preparazione in palestra immagino cioè l'aveva accennato prima mi pare per esempio per fare certi esercizi dopo una certa età immagino ci vuole anche una preparazione muscolare su alcune cose ma lo facciamo all'interno in palestra di ginnastica artistica all'interno dell'ora della lezione noi abbiamo una parte di stretching una parte di potenziamento muscolare e una parte in cui si sale proprio all'attrezzo per provare gli esercizi prima si fa riscaldamento si prepara una grossa parte della lezione è data da riscaldamento i allenamenti quindi tre ore durano più o meno dipende ovviamente anche qui dal livello che viene scelto se uno vuole fare attività agonistica di un certo livello bisogna fare tre ore almeno al giorno i corsi base fanno un'ora al giorno per due volte a settimana ho capito ho capito e nel mezzo ci stanno tanti tanti gruppi che fanno un'ora e mezza che fanno due o tre volte a settimana cambia insomma in base al livello del diciamo che uno sceglie il tipo di percorso che vuole fare e noi chiaramente gli lo facciamo trovare pronto e se lui ci segue si spera che nel giro di qualche mese meglio anno arriva ovviamente ai risultati che si era prefissato che si era prefissato molto bene beh insomma abbiamo approfittato per conoscere meglio un altro un altro settore della ginnastica triestina in questo caso la ginnastica artistica per cui vi ringrazio per essere stati con noi e per avercene parlato le prossime iscrizioni ormai sono fra fra quanto il prossimo in realtà ci si può iscrivere anche adesso ci si può entrare comunque in qualsiasi momento ci sono posti quindi chi avesse voglia di provare questa bellissima attività immagino sia ben accetto assolutamente molto bene grazie per essere stati con noi grazie a voi per averci seguito a Trieste in diretta fra pochi minuti però state con noi perché c'è studio Telequattro pubblicità grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti